ciao ragazze appuntamento di maggio con un make up al mese con noi in collaborazione con Miss Jessie make up Jessica che saluto e ringrazio ciao cara lascio il link al canale di Jessica giù nell'info box mi raccomando andatela a vedere lo sapete ogni volta i nostri make up sono a sorpresa reciproco per cui sono sempre molto curiosa la mia proposta per questo mese è il tronco che sto indossando uno smoky viola realizzato con la palettina della bchic la de litte chic palette che vi presento nel video di aprile vi lascio il link di questo video qui da qualche parte se riesco e sicuramente giù nell'info adesso quindi ragazzi vi lascio alla visione del tutorial vero e proprio spero che vi piaccia ditemi come sempre cosa ne pensate giù nei commenti e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video ciao come prima cosa applico sul viso questo campioncino della magica baby cream di collistar nella nuance medio scura il prodotto ha un fattore di protezione solare venti uniforma l'incarnato svolge un'azione anti rughe e attenua rossori presenti quella sul viso dalla de litte chic palette della bchic prelevo il primer cremoso quasi trasparente e lo applico su tutto l'occhio utilizzo subito questo bel viola che applico su tutta la palpebra mobile e poi questo verde militare che con il pennello da sfumatura di mecc vado ad applicare nella piega dell'occhio con il pennello 224 di mecc raffino questa sfumatura prelevo ora la cialdina bianca e applico la polvere sull'arcata sopraccigliare come illuminante con una normale salvietta stroccante vado a togliere la sbavatura all'angolo esterno dell'occhio delino ora la rima interna dell'occhio con il truccol di pupa mentre sulla rima ciliare superiore utilizzo lo smart liner di sifora spruzzo con la neve fissante di neve il pennellino d'eyeliner 210 di mecc e prelevo la polvere nera per andare a delineare la rima ciliare inferiore dell'occhio dopo l'appuntamento fisso col piegaciglia applico il mascara volume sguardo meraviglioso di demora milano sulle ciglia superiori e su quelle inferiore anche questo prodotto mi sta piacendo molto delineo con ebano in pastello occhi di neve cosinetti le mie sovracceglie e infine prelevo ancora un po' di polvere bianca per creare un punto luce all'angolo interno dell'occhio come blush ho scelto questo ombretto due brillante rosa di yamamai che vado a prendere con il disco blush di neve cosmetics e lo applico sulle guacce passo al trucco delle labbra sigillando nel contorno con perfettine con un semplice cotton fioc ne sfumo i bordi delineo il contorno delle labbra con la mattita della libre la numero 33 e infine applico questo bel rosa barbie di mac che è pink nobù e questo è il risultato finale ciao